Cosa significa davvero innovare nel packaging nel rispetto della sostenibilità? Quando si pensa alla carta, al cartone, al packaging in generale, naturalmente viene da pensare a qualche cosa di sostenibile, soprattutto ribadisco se ha a che fare con la carta. In realtà, negli anni che stiamo vivendo ci siamo tutti resi conto che non basta più. È vero che carta e cartone sono materiali privilegiati, ma deve essere nella mission di qualsiasi azienda che ha a che fare con il packaging, cercare di fare meglio, cosa che noi in Grifal proviamo a fare quotidianamente. La creazione di un prodotto innovativo come Cartoo ha portato al miglioramento, all'ottimizzazione del tema del packaging, riducendo drasticamente i consumi di energia necessari per produrre questa materia prima, grandi risparmi nell'impatto ambientale in generale e quello che poi in realtà noi preme di più, al di là della necessaria attenzione all'impegno alla sostenibilità ecologica, il risvolto legato alla sostenibilità sociale, perché è un elemento forse ancora più importante, tutte le collaborazioni, i collaboratori coinvolti nel processo produttivo che hanno a che fare con la logistica, con il packaging, devono essere sempre comunque sul palcoscenico, devono sempre essere intesi come parte attiva, preponderante e necessaria, perché davvero si possa parlare di sostenibilità, di circolarità, di qualche cosa che risolve, dà soddisfazione alle esigenze dell'oggi, ma soprattutto pensa al domani.